Nel frattempo ci prova Banegas, tra le linee, il 10, la sterzata, il mancino! E segna sempre lui! Dalla distanza il pallone è passato tra le maglie difensive dei giocatori del Roma City. E l'ha messa all'angolino il pocio Banegas. Indietro a favore di Michelin. Il pallone è sbagliato, allora Sparacello! Non ce la fa Banegas, mani sul volto per il giocatore argentino che ha subito il colpo al ginocchio su quell'azione del minuto 27. E tutti ovviamente vanno a sincerarsi delle condizioni del pocio Banegas. Speriamo sia un cambio precauzionale per Banegas, non solo per quello che riguarda ovviamente questo match. E per una probabile finale play-off. Quando siamo al minuto 40 di questo primo tempo, l'Aquila 1, Roma City 0, il gol di Banegas guadagna il corner, la formazione di Cappellacci. Eccolo il traversone! Il colpo di testa di Jonathan Alessandro. Puntualissimo il fischietto lombardo Davide Cerea a mandare i 25, perché ovviamente ci mettiamo anche la terna, a un bel sorso di acqua fresca perché il caldo è forte anche qui nel capologo di regione abruzzese. I quattro minuti del match lo scambio di Cappellacci, il traversone al centro, il colpo di testa! Da parte di Scognamiglio che aveva preso qualche centimetro al suo derimpettaio c'è Brunetti. Marcheggiani, la verticalizzazione improvvisa per Alessandro, Alessandro, lo slalom, Alessandro! Il miracolo da parte di Salvatore dichiara. Del pinto sulla rimessa, lo scambio con Del Moro il destro! Illusione ottica del gol. Sulla parte esterna della porta laziale, il traversone nel frattempo sulla sinistra. Di Renzo, Di Renzo, Di Renzo! Cade a terra Di Renzo, che allarga le braccia a chiedere il penalty. Ecco il pallone per Persiani, limite dell'area di rigore. Lo scarico per Del pinto, la paratona all'ennesima. Del pinto, Angiulli di prima per Bellardinelli che può mettere il pallone al centro. La parata ancora di Di Chiara, Del pinto, e poi Alessandro! Jonathan! Ah, Alessandro! Lancio di Alessandretti, la svetta è tagliata a favore di Bellardinelli che mette giù il pallone in modo dolce. Lo scarico per Alessandro! E allora, corner per il Roma City. Eccolo il traversone che parte sul primo palo. Batti e ribatti, ancora un rimpallo. E l'Aquila che si salva in modo clamoroso. Ancora in angolo col Roma City, traversone e Michelin smanaccia. Pallone filtrante dove può arrivare Bonello. Bonello ora di rigore a Di Renzo e solo. E Di Renzo segna! Accorciato Di Renzo! Di mezza lo svantaggio il bomber laziale. Ma ci ha provato comunque Persiani. Ora Ingretolli, Ingretolli si gioca. Ingretolli, il pallonetto e il pari del Roma City. Attenzione! Il pari del Roma City con Ingretolli al novantesimo. E c'è il rosso. E c'è il rosso. Tocco con la mano. Lo scambio è il tiro di Angiulli. Angiulli carica le munizioni. Angiulli! Pallone alto. E' finita! L'Aquila va in finale playoff. Pareggiando 2-2 col Roma City. E' stata una battaglia sportiva di alto livello.